ariete concentratevi su quelle attività che vi procurano piccoli ma intensi piaceri sappiate alimentare la vostra felicità toro sarete piuttosto maldestri oggi e tenderete a combinare parecchi guai limitate al minimo la vostra attività dentro e fuori casa gemelli prima di sera vi troverete a dover ingaggiare una corsa contro il tempo la colpa è vostra ancora una volta vi siete ridotti a fare tutto all'ultimo momento cancro avrete il timore di non essere in grado di eguagliare le vostre eccellenti prestazioni dei giorni passati oggi ma i riscontri che otterrete saranno tutti positivi leone se saprete puntare lo sguardo sul futuro potreste cogliere una breve e sorprendente visione di ciò che vi aspetta ed iniziare sin da oggi ad organizzarvi vergine non appena gli altri si lasceranno coinvolgere da un vostro progetto tutto andrà a gonfie vele e non sarà difficile mantenere alto il loro interesse bilancia non arretrate di fronte ad una sfida per quanto impegnativa possa apparire è importante che continuate ad avanzare o almeno che riusciate a mantenere la vostra posizione scorpione concentratevi sulla vostra carriera e non distraetevi mai da quello che è in questo momento il vostro obiettivo primario avete preso una decisione rispettatela sagittario non è tempo di compromessi chiedete che vi venga dato ciò che ritenete di meritare e non accettate nulla di meno capricorno non fatevi influenzare dall'opinione dominante pensate con la testa vostra e siate coerenti con le cose in cui credete acquario potreste imbattervi in una persona che sembrerà esercitare uno strano potere su di voi il fatto è che siete voi che gli attribuite un'autorità che non ha pesci siate sinceri e diretti con le persone a voi intime oggi non provate a mentire verreste scoperti